In questo nuovo video andiamo a vedere la mia nuova posizione long sulla sterlina, posizione che al momento è in loss ed è anche la seconda di questo mese. Ben ritrovato con questo appuntamento, questa è professione trader, io sono Damiano Zito, price action indipendente, membro e collaboratore di questa community e in questa rubrica settimanalmente racconto la mia esperienza di trading, quindi il mio diario di trading con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso qui in Airforex. Ho il grafico di sterlina, sterlina che è l'asset che ho già tradato in realtà questo mese, sul quale ho questa posizione al momento in costo non realizzato e che possiamo andare un attimino a vedere sul mio diario di trading e poi analizzarla sul grafico. Allora, questo è quindi il mio diario di trading, vediamo marzo, eccolo qui, marzo dove ho due posizioni in essere o meglio una che si è già chiusa ed è long su, sempre sulla sterlina che avevo inserito inizio mese, long correlato in realtà con l'euro quindi chiuso in zona 1.28 e che aveva confermato quella che era la view long su questo mercato che era poi rimasta nelle settimane successive. Il 20 marzo, 20 marzo scorso ho inserito questo nuovo trade su una conferma in bar, del bar, quindi una conferma operativa del mio piano e dove ho investito i miei soliti 250 euro. Però ti faccio notare che questa volta, siccome ho inserito uno stop un po' più ampio, si riduce la quantità, quindi la size di contratti che ho acquistato quindi si riduce anche la leva e quindi il controvalore, la mia esposizione che ho al momento sul mercato. Ok, andiamo a vedere un po' questa posizione, posizione che appunto ha questo livello di massimo investimento 1.24 e 80. Eccola qui. Allora, io ho inserito questo trade appunto il 20 marzo, venivamo da questa situazione settimanale, quindi rivediamo un po' la settimana, quindi questo allungo che poi si era fermato in questa zona, in questa fase di range all'interno di questo box, ampia in termini temporali ma stretta in termini di pips se vogliamo, quindi di ampiezza, no? Aveva fatto questa falsa rottura sul pavimento, falsa rottura recuperata, che aveva creato quindi un pattern FTV Power che è stato, diciamo, poi elemento di posizionamento only long su questo mercato a livello operativo che ha avuto, diciamo, una sua conferma che ho tradato a inizio mese. Ho tradato a inizio mese, quindi avevo chiuso su questi livelli 1.2804 e quindi il mio piano era rimasto esclusivamente long. Avevo quindi questa view e qual'era la migliore conferma? La migliore conferma era sicuramente quella di tenuta del livello di tetto della lateralità e quindi continuazione. Se vogliamo c'è stata qui una conferma che non è stata convalidata in realtà, che è stata la tail bar più inside che si è venuta a creare tra l'11 e il 12 di marzo. Io qui in realtà avevo già messo un ordine buy stop per andare long, ma il mercato ha quasi testato questo massimo e è ritornato giù. La conferma quindi del mio piano è arrivata il 19 marzo. Quindi il 20, il 20 mattina ho impostato, ho impostato questo ordine 1.2736, ma facendo una considerazione, quello che andando a fare l'analisi neutrale su contestualizzazione sia di struttura che del trigger stesso, quindi contestualizzare il trigger all'interno della struttura, mi aveva posto, diciamo, quest'analisi, l'attenzione sul fatto che eravamo rientrati all'interno, se vogliamo, del range precedente. Quindi come questa era stata una falsa rottura, anche questa poteva rivelarsi una falsa rottura. Tant'è che, insomma, se andiamo a vedere sul settimanale, io qui ancora ho questo punto di domanda. Non è ancora stata confermata per quanto mi riguarda. Nel momento quindi in cui ho progettato questo trade, tenendo in considerazione questo scenario, il mio stop, quindi il mio massimo investimento, l'ho messo a 1.2480, quindi questa zona qui, sotto i minimi settimanali, sotto il livello tondo 1.25. Perché questo? Uno, il fatto che eravamo sotto questo livello, e due, il fatto che avevamo il punto di rialzo, lo swing low, che questo swing, che in realtà ho anche tradato, è stato, diciamo, il mio trigger long che ho tradato il 4 marzo, poteva essere in qualche modo ritestato, cioè vedere questa roba qui, e poi magari un ulteriore ritorno long ci stava. Ci stava e mi ero messo nello scenario che alla rottura, cioè alla convalida del mio trigger, il mercato poteva crearmi una cosa del genere. In realtà lui non l'ha fatto subito, il giorno successivo ha creato una conferma di questo trigger, che è stata rimangiata il giorno successivo con un'ampia vola, quindi questa è un'informazione importante che in qualche modo devo tenere in considerazione sul mercato, vola che va però ancora, cioè ci trovavamo ancora sopra i livelli importanti, cioè i livelli di interesse qui era l'1.26 sicuramente, diciamo l'1.26 tanto il livello di pavimento, ma il livello di minimo era l'1.26. E nel mio piano c'era la possibilità che lui potesse fare qualcosa qui, nel giro di poco in realtà, poi di poco, insomma il mercato poi si muove, si muove con i suoi tempi, non sono io che li stabilisco, però insomma l'idea che potesse arrivare all'1.26, testarlo e poi ripartire ci stava. Sicuramente qui c'è un'informazione di volatilità che devo tenere in considerazione e che adesso, insomma, sto cercando di comprendere. Cioè, mi spiego meglio, io ho fatto questo ingresso a 1.27.36, ho ancora lo stop 1.24.80, significa che io ho messo i miei 250 euro all'interno di questo range, va bene? Quindi, cosa significa? Significa che adesso, siccome c'è stata questa volatilità, se vogliamo anche violenta, perché lo è al ribasso, devo capire cosa succede in questa zona, e quindi all'interno in realtà di questo rettangolo. Perché questo? Perché un ulteriore, se vogliamo, trigger short, supponiamo una cosa del genere, anche domani, qui, sarebbe, diventerebbe una conferma del movimento ribassista, che potrebbe annullare quindi tutta la mia view long, e quindi confermare la falsa rottura sul settimanale, e a quel punto mi farebbe uscire probabilmente a costo inferiore su questo trade. Quindi, ragioniamo, il ragionamento qual è? Il ragionamento è che se qui il mercato vuole tornare short, e quindi ha fatto, per esempio, questo movimento, ok, quindi 1, 2, qui ha fatto questo, ok, può adesso verificarsi che cosa? Che dopo aver fatto questo ulteriore minimo, qui possa esserci un ulteriore ritorno, cioè anche con questa volatilità, torna giù, qui mi fa un setup ribassista, mi conferma eventualmente la falsa rottura con la sua convalida, e quindi il suo movimento short, e quindi andrebbe a quel punto, cioè non, andrebbe contro il mio trade, non avrebbe più senso il mio progetto di trade. Se invece il mercato qui continua a recuperare questa volatilità, ecco, questa potrebbe diventare una barra di fine movimento di questo short, e quindi una trappola che fa pensare che dopo aver raggiunto l'1,26, voglia tornare giù, diciamo che effettivamente un ritorno qui, prezzo di carico, a quel punto potrebbe in qualche modo farmi pensare che il mercato possa costruire un, come dire, nuovi minimi crescenti, nuovamente diciamo una nuova struttura long, e quindi confermare il mio trade. Ma a quel punto richiederebbe una gestione, nel senso che il mio investimento non sarebbe più a 1,2480, ma lo andrei a spostare qui, quindi sotto questi minimi, questo perché altrimenti c'è un ritorno sotto questi minimi, andrebbe appunto a confermare quello che dicevo prima, lo short e quindi gli swing low decrescenti, e quindi insomma degraderebbe tutta la struttura. Al momento sono abbastanza tranquillo, nel senso che cerco di ragionare, chiaramente, e sono tranquillo perché ho lo stop ampio, e perché questo era uno scenario che effettivamente si poteva verificare, quindi se vogliamo un po' è come se il mio cervello fosse già preparato a questa situazione, quindi indipendentemente dalla situazione di costo temporale, che in realtà non è neanche realizzato in questo momento, non è quello che, insomma, non è quello il mio focus. Il mio focus adesso è rimanere focalizzato sull'operazione in termini di, come dire, di comprensione della dinamica di mercato. Ok, quindi potrei sicuramente, o meglio, sicuramente no, potrei avere sia, diciamo, la condizione in cui uscirò a costo inferiore, potrebbe anche avvenire un costo pieno, oppure il mercato ritorna sui suoi passi, e quindi all'interno di quella che è la struttura di medio periodo che si era venuta a creare, quindi sul settimanale, se vogliamo questo, ok, potrebbe essere questo, base, rally, diciamo rally base, diciamo nuova continuazione con un rally, dopo una fase di finte che sta facendo il mercato, quindi falsa rottura e continuazione, ci sta. Ok, al momento quindi questa è la situazione che sto gestendo, è che, insomma, se vogliamo trarre un insegnamento, il fatto che il mercato effettivamente non si comporta mai allo stesso modo, quando c'è un trigger, non è detto che questo vada subito su, se vogliamo, per esempio quello di marzo, è un trigger che ho tradato, e che non ha richiesto particolari gestioni, se non quella del profitto, cioè capire quando prendere profitto, cioè una volta entrati qui, lui ha fatto, qui avevamo un tetto, quindi una resistenza che ha rotto, e se vogliamo, qui rispetto alla situazione attuale potrebbe esserci una situazione diversa, qui quello che può succedere è avere paura, no, del fatto che il mercato su questo livello venga giù, e quindi incassare per esempio su questo livello, ma poteva essere anche un progetto di trading, io avevo un progetto che aveva, diciamo, target un po' più in alto in realtà, ho deciso di incassare il livello amministrativo con l'euro, a 1,28, che era il mio primo target, però non ha richiesto gestioni che andavano sul fatto che stavo, stavo con una condizione di loss, insomma di costo momentaneo, questa posizione è andata sempre in gain, e quindi anche lì gestione, ma gestione del profitto, in questo caso è una gestione, gestione di una posizione che non è in profitto, in questo caso è a costo, e la gestione in questo caso richiede andare a capire quando spostare lo stop, se spostare lo stop per gestire un costo inferiore, o se la posizione per esempio torna in profitto. Questo è il trading, insomma, va, come dire, va consapevolizzato. Non esiste, sicuramente, non è solo questo modo di fare trading, però questo sicuramente è quello che fa il mercato, e siccome il metodo che utilizzo, è un metodo che si basa sul ragionamento e sui dati di fatto, quello che devo contestualizzare è il fatto che il mercato al momento sembra in qualche modo voler andare al ribasso, ma con una tendenza di medio periodo che era tornata long, e quindi va capito, va capito, insomma, va capito, e finché non mi mostrano un'ulteriore conferma in una o nell'altra direzione, non posso prendere decisioni, se non con dei dati di fatto. abbiamo questo, questo è il ragionamento che mi porto oggi. Questo in trade, tra l'altro, stiamo, come dire, è abbastanza simile a quello che c'è, che ha fatto anche Arduino in trading room, siamo abbastanza allineati, direi, sui ragionamenti, che lui aveva fatto questo trade long, ne avevamo discusso insieme in trading room, quindi, se vogliamo, c'è anche la forza della community in questo caso, quindi la, come dire, la forza di condividere insieme dei ragionamenti, e quindi, che facciamo ogni mattina nel, nel gruppo, insieme, insieme agli altri. Bene, diciamo, questa, questa è la situazione, ho al momento, stavo pensando a posizionare un, un buy stop sul, sul petrolio, ho questa situazione che, praticamente, ovviamente, ieri, ha creato questa conferma operativa, questo rialzo, che è un FTV power, su, rispetto all'ultima leg, sul livello di ritracciamento di 38,2, ma, che viene da quella che, una view, che sto seguendo in realtà, da, vediamo un po', dal, da metà febbraio, da metà febbraio, la mia, la mia view sul petrolio, era un po' cambiata, dall'holly short, qui avevo iniziato a pensare, al fatto che il mercato, potesse, stappare un po' il rialzo, se segui questa rubrica, probabilmente avrei visto, che avevo fatto un trade, che ho chiuso in realtà, a B, su, su febbraio, sì, era a febbraio, possiamo andare a vederlo, anche sul diario, in realtà, anzi, prendo proprio il diario, anche perché, stavo già assettando un po', la, la posizione, io avevo fatto questo trade, il 22 febbraio, che poi ho chiuso, con un, con un B, di 2 euro o più, i tassi di interesse, quindi un positivo di 5 euro, in questo caso, però qui era un po' incastrato, si era un po' incastrato il mercato, sembrava potesse ritracciare un po' di più, insomma, la situazione non era, non era chiarissima, adesso, se torniamo un po' sul, sul settimanale, lui ha creato, aveva fatto, diciamo, già questa costruzione, qui sembrava potesse tornare giù, ma ha fatto una, una falsa rottura, quindi che cosa sta facendo? Sta creando questi, questi scalini, ok, di tenuta, e soprattutto, diciamo, quest'area, quest'area qui, di 76, se vogliamo, è la zona, la zona dove il mercato, da una situazione che sembrava short, ha creato poi la, la tenuta, no? Quindi, è questa, questa è la zona che adesso diventa, importante, quindi il livello, oltre il quale il mercato, secondo me, non, non avrebbe più senso, vederlo in ottica, in ottica long. È chiaro che, avevamo una situazione sul, sul weekly, no? Che era, un pochino più, più short, però adesso, che ha rotto questi massimi, effettivamente, potrebbe tornare ancora, a ritestarli, area, area 80, ma, con la chiusura, della settimana, dell'11 marzo, sinceramente, col mercato che rimane, comunque, sopra, sopra questi livelli, sopra gli 80, quindi, il mercato, lo sto vedendo, in esclusiva, ottica long, infatti, un piano operativo, all'i long, questa settimana. Quindi, l'idea era, che potevo tradare, questo, questo trigger, non è una, una falsa rottura, se avesse fatto, ecco, se lui avesse fatto, per esempio, in questa, in questa discesa, una cosa del genere, supponiamo, ecco qui, sarebbe stato, un pochino diverso, ok, avrei magari messo, mi sarei messo, nella condizione, di tradare, questo, questo setup, magari con uno stop, in area 76, 76, 30, in questa situazione, invece, l'idea mia, è mettermi, in area 75, 75, 20, più o meno, quindi, mettermi, con un buy stop, eccolo qui, lo stavo vedendo, sul, sul mio, size calculator, avevo messo, il livello di ingresso, 82, 41, vediamolo un po', sul, eccolo qui, 82, 41, quindi, più o meno, eccolo qui, qui, ok, nella rottura, di questi massimi, sapendo che può ritracciare, con un livello di uscita, a costo, 75, 20, 75, 20, vuol dire, vuol dire, qui, ok, andiamo a prendere, quindi, quest'area, ok, quindi, più o meno qui, quindi, sotto, sotto queste minimi, aree di pavimento, insomma, abbiamo visto anche prima, sul, sul settimanale, sapendo quindi, che cosa, che può tornare, cioè, supponiamo che lui, convalidi, poi, torna magari giù, ok, su area 80, e poi magari, quindi, mi fa, un, una finta, no, se vogliamo, anche qui, quindi, l'area 80, l'area 80, da monitorare, se invece, poi, a quel punto, potrei anche, dovesse fare una cosa del genere, potrei anche incrementare, spostarmi con lo stop, però, se invece lui, adesso, ci ritorna con calma, o meglio, perdono, non con calma, ma, ci dovesse invece, tornare in maniera violenta, e fare qualcosa, del genere, la questione, diventerebbe un pochino diversa, cioè, se sotto gli 80, lui torna sotto gli 80, con forza, probabilmente, non avrebbe più, più senso, il mio trade, e, potrei chiudere, chiudere a costo, quel punto, e rivalutare, rivalutare successivamente, adesso, diciamo, questa zona qui, per quanto mi riguarda, può venire ancora, testata dal, dal mercato, può essere ancora testata, e quindi, insomma, stop, stop, anche in questo caso, quindi, sizing, vediamo un po', che, stavo valutando, l'idea, quindi, inserire questo trade, supponiamo, che entri oggi, 82, 41, potrebbe essere, il livello di, di buy stop, è uscita a costo, 75,20, sì, l'idea è questa, vediamo che, insomma, avrei un numero di CFD, da acquistare, quindi, 0,35, con un nozionale, controller iniziale, di 2.800 euro, più o meno, ci sta, quindi, questo potrebbe essere, un secondo trade, un secondo trade, che se dovessi, inserire, chiaramente, lo vediamo, nel, nel prossimo video, bene, per oggi è tutto, io, vi auguro che, anche questo video, ti sia piaciuto, fammi sapere, nei commenti, cosa, faresti tu, al mio posto, sulla sterlina, sicuramente, vedremo, nel prossimo, aggiornamento, eventuali, mie nuove, nuove gestioni, su, su questo trade, se dovessi fare, anche il petrolio, probabilmente, lo vedremo, nel, nel prossimo, aggiornamento, e quindi, anche nel, mio diario di trading, ti ricordo, se non sei iscritto, di iscriverti a questo canale, attivare, eventualmente, la campanella, e soprattutto, lasciare un mi piace, a questo video, se ti è piaciuto, fammelo sapere, sempre nei commenti, ti auguro buon trading, e alla prossima, ciao.